La tavola di Pasqua a mio avviso deve essere sontuosa, esattamente come quella di Natale, però trattandosi di un'occasione molto meno formale e soprattutto non riservata ai parenti stretti ma anche agli amici, direi che ci sono alcune regole che possono essere trasgredite o interpretate. Sicuramente Pasqua è l'occasione giusta per lucidare alcuni argenti e tirare fuori il resto dell'argenteria. A me piace dividerla in due tipologie, quella che non lucido mai e che lascio invecchiare con gli anni proprio perché questo è il suo bello e quella invece ovviamente destinata all'uso della tavola come posate e piattini da pane o anche le brocche che deve essere lucidata spesso e ovviamente essere presentata sulla tavola in modo impeccabile. Quando si tratta di imparare le buone maniere o soprattutto di discutere di galateo, credo che ci si trovi nella stessa situazione in cui ci troviamo quando decidiamo di imparare una lingua nuova. Nessuno di noi pensa a quello che dice quando parla nella propria lingua, cioè non sta a scegliere le parole, ma quando invece ci accengiamo a imparare una lingua per la prima volta ogni piccola parola può sembrarci difficile da ricordare. Lo stesso vale per le buone maniere ma riflettendoci, conoscerle è l'unico modo per poterle poi ignorare e soprattutto è l'unico modo per farci sentire veramente a nostro agio su una tavola bella come questa perché sapremo come apparecchiarla ma soprattutto come comportarci nel momento in cui saremo ospiti della padrona di casa. Oggi l'apparecchiatura è decisamente formale, il tavolo rettangolare è uno dei più facili da preparare perché consente ai due padroni di casa di sedersi alle postazioni di capo tavola e quindi uno davanti all'altra. Se ci sono ospiti formali o comunque d'onore direi che il loro posto a tavola è sicuramente quello alla destra dei due padroni di casa. La signora si siederà soprattutto se ha bisogno di andare in cucina nella parte più vicina alla porta della cucina stessa, il marito dall'altra parte del tavolo. Abbiato il curo ovviamente di non mettere le coppie vicine soprattutto se la vostra tavola è molto più numerosa. Noi di solito a Pasqua abbiamo la fortuna di essere invitati da Simone e Andrea e lì francamente le tavolate arrivano anche a 40 persone, beh è ben più difficile da apparecchiare ma il criterio è sempre lo stesso, cercate di mettere vicino persone che abbiano qualche cosa in comune, non abbiate paura di mescolare anche ospiti e soprattutto cercate di evitare il più possibile di mettere molto vicini tra di loro persone che fanno tutte lo stesso lavoro o amano tutte lo stesso sport, questo potrebbe essere veramente pericoloso. Dunque veniamo un momento all'apparecchiatura, su questa tavola formale arrivano dei fiori che possono essere messi come decorazione, io li ho scelti per i tovaglioli che andranno qui a sinistra del piatto esattamente davanti al piattino del pane, così. Questo potrebbe essere un modo carino di annunciare la primavera e anche un modo simpatico di decorare la tavola riprendendo il centro tavola fatto con le uova pasquali e le margherite fresche. Lascio lo spazio per le forchette mentre a destra del piatto come sempre andrà il coltello con il suo cucchiaio. Il pranzo prevede più portate ma apparecchierò comunque soltanto le posate classiche, quindi le nostre solite tre, cucchiaio e coltello a destra, forchette a sinistra. Le altre arriveranno a mano a mano che arriveranno le portate, questo per non affollare troppo il tavolo e per non dare l'idea di una tavola decisamente troppo vestita. Ho voluto lasciare spazio anche a due bei candelabri d'argento, alle brocche, una per l'acqua naturale e una per l'acqua gasata e una simpatica gallina pasquale che ho recuperato, adesso non ricordo più in quale mercatino ma che mi segue ormai da un po' di anni. Nell'informalità di una tavola non per l'occasione avrei voluto apparecchiare già il bicchiere per il vino da dessert che avrei messo in questa posizione come terzo bicchiere, ma visto che oggi voglio fare le cose con un pochettino di formalità direi che mi limito a mettere un bicchiere a stelo per l'acqua e un bicchiere a stelo per il vino. Cucchiaio. Parliamo un momento del pane, se non avete un piattino del pane deve arrivare in tavola con il secondo. Se invece avete un antipasto che lo prevede o comunque volete fare sfoggere i piattini del pane soprattutto se come questi sono in argento, allora potete concedervi diciamo la stravaganza di far arrivare il pane già all'inizio di quello che è il vostro pasto. Abbiate cura però, soprattutto se siete ospiti, di non trasformare il vostro plassé in un covo di briciole perché se la padrona di casa ha messo il piattino del pane il buon ospite dovrebbe limitarsi a sbriciolare su di esso e il piattino del pane dovrà poi essere ritirato insieme a olio, aceto, vari condimenti e al vino che si è utilizzato per il secondo nel momento in cui si sparecchia per il dessert. Ultima cosa, come sempre, accendere le candele prima che arrivino ai vostri ospiti. Buona giornata!